Siamo arrivati agli ultimi momenti di questa tappa, di questa quarta tappa iniziata qualche anno fa, che speriamo andrà avanti, avrà altre tampe e quindi siamo quasi alla fine di questa bellissima serata da quelli sciopi sicuramente più ricchi spiritualmente. Quindi prima dei saluti finali vi volevo ricordare che oltre a che potete acquistare il libro, voi dite che io sia il libro che abbiamo presentato stasera, ma potete acquistare anche gli altri tre libri che Don Cristian ha già scritto, anche i tre libri precedenti. Volevo ricordare che ci sarà un piccolo cocktail, un piccolo rinfresco per il quale ringraziamo tutti coloro che l'hanno preparato, che si è a disposizione e l'hanno preparato per tutti quanti voi. E voglio ringraziare sicuramente il nostro ospite, il nostro padre Giuseppe Piccino, direttore delle dittime, che non ci sono sempre il tempo, grazie il padre, vi ringraziamo, voglio ringraziare, io veramente voglio dire che vi voglio fare anche i complimenti personali da parte mia, perché Don Cristian l'aveva creato, io anche la sua, e questo mi ha detto un grado, un altro lucido, voglio dire proprio questa cosa, che lui mi aveva sentito, da qui ha deciso proprio di fargli fare questa cosa, loro si danno alla musica, alla recitazione, alla poesia e quando Don Cristian l'ha sentita ha deciso di affidare alcuni brani appunto del libro, proprio perché voleva sentire, proprio dai giovani, dalla bocca dei giovani le parole proprio dentro, e quindi vi ringrazio e vi faccio tanti complimenti da voi. e poi ovviamente io ringrazio la stand della serata, per il quale siamo, ve lo ringraziamo, veramente, lo ringrazio veramente, per quest'altra perna che ci ha regalato, per questi momenti di profondità, di riflessione, che ci fanno veramente inflettere sul nostro essere cristiani. Don Cristian sul vostro. Io lo voglio anche ringraziare personalmente perché mi ha portato ancora una volta qui a presentare il suo libro di produrre. Non c'è di stare da bravo, facciamo un applauso. Grazie a voi che siete tutti qua intervenuti, come diceva Don Cristian, siete venuti da tante, oltre alla comunità di San Vito, la comunità di Panza, che era la parrocchia precedente nella quale dove stava Don Cristian, e molti anche dagli altri versanti, abbiamo detto che è stato bellissimo, bellissimo, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Un piccolo omaggio floreale per il nostro Don Cristian. Grazie. Bene, grazie, noi io do ancora una volta la parola ai nostri, ai nostri bravissimi ragazzi, e grazie a tutti, grazie a tutti, alla prossima. Grazie. 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 Grazie.